Visto da esterno, primo pensiero che perlomeno ho avuto, io capisco che ci possa essere della live in questo cringe, però è bene capire di che cosa stiamo parlando e soprattutto perché c'è la possibilità effettivamente di fare tanti soldi. Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio darvi un'idea per fare soldi grazie a TikTok cavalcando un trend. Prima però di capire che cosa sta succedendo e di conseguenza come metterlo in atto, ricordatevi una cosa molto importante ovvero quella di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neanche uno dei contenuti che escono tutti i giorni qua sul canale nei quali parlo di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Con questo video voglio analizzare insieme a voi questo fenomeno che ultimamente sta esplodendo su TikTok perché a quanto pare dei content creator riescono a fare dei bei guadagni grazie a delle particolari live. Sì, certo arriveranno come sempre tutti i fuffaguro a dirvi Ehi, voglio svelarti il segreto per guadagnare su TikTok ma prima compra il mio corso oppure fai questo e quest'altro. No, non c'è nulla da comprare, non c'è una scienza dietro a queste cose qui ma voglio analizzarle con voi perché questo business può non essere per tutti obiettivamente e infatti voglio analizzarne tutti i lati positivi e negativi. Come caso studio voglio prendere una ragazza di Napoli che però lavora e vive ad Amsterdam sto parlando di Giuliana Florio, una content creator di TikTok che fa delle live NPC e ultimamente in Italia è esploso un caso su di lei. Ma cosa sono questi NPC? Diciamo che chi arriva dal mondo videoludico non è digiuno da questa parola un po' particolare ma che vuol semplicemente dire personaggi non giocanti. Infatti questi ultimi non faranno alcuna azione se non comandata da chi sta videogiocando al videogioco per l'appunto e quindi in questo caso non faranno alcuna azione se non qualcuno che guarda la live darà uno speciale comando. Premettiamo però che Giuliana di cui si parla tanto in Italia non ha inventato assolutamente nulla ma semplicemente scorrendo le live di TikTok si è imbattuta in Pinky Doll una content creator americana che ha fatto proprio delle live NPC un vero e proprio lavoro riuscendo a guadagnare anche 7000 dollari al giorno. Logicamente vi chiederete in tanti ma come si fa a guadagnare da queste live? Tutti i creatori di contenuti che fanno live potranno ricevere da chiunque guardi la live per l'appunto dei commenti o anche degli oggetti virtuali e quest'ultimi potranno essere convertiti in vero e proprio denaro da parte dei content creator ma non solo perché ci sono anche degli abbonamenti per le live e tutte delle cose collegate ad essa. Questo vuol dire che più oggetti il content creator riceverà e più potrà guadagnare senza contare gli sponsor che sicuramente vedendo il boom di queste live a breve arriveranno e pagheranno per essere visibili proprio in questi contenuti live. Oltretutto ci terrei a precisare perché la nominoerò dopo che non sono venuto a conoscenza di queste particolari live da Giuliana ma ho visto per caso su TikTok delle live di Hypnoza. Partiamo però con l'analizzare questo fenomeno capendo in che cosa consiste e come si può fare e soprattutto quanti soldi si possono guadagnare. Pinky Doll onestamente non la prenderei neanche in considerazione perché ha un account veramente enorme soprattutto parla in inglese quindi la sua fetta di pubblico è decisamente più ampia e un utente italiano non potrà mai raggiungere quel pubblico a meno che non parli in inglese. Concentriamoci quindi sui due casi nostrani che ho voluto analizzare per capire fino in fondo il fenomeno. Soprattutto prima vorrei farvi vedere un pezzetto di live proprio per farvi capire di che cosa stiamo parlando perché alcuni potrebbero non avere idea di che cosa sia questo fenomeno. Causa stupenda! Rosa! Daniele? Buongiorno Serena! Benvenuta! Raggiungiamo l'obiettivo per la scelta del nuovo cosplay! Visto da esterno primo pensiero che perlomeno ho avuto io capisco che ci possa essere della live in questo cringe però è bene capire di che cosa stiamo parlando e soprattutto perché c'è la possibilità effettivamente di fare tanti soldi. Giuliana in un'intervista a fanpage non ha dichiarato quanto guadagna semplicemente ha detto di non avvicinarsi minimamente ai numeri di Pinky Doll anche perché come abbiamo visto in precedenza parla in inglese e quindi ha un pubblico nettamente più vasto. Non dichiarando i suoi guadagni però ha fatto intendere che guadagnasse molto di più facendo la cameriera ad Amsterdam che è il suo lavoro principale e quindi di far tutto ciò solo per raggiungere più persone possibili anche se a me onestamente ha fatto storcere un po' il naso questa cosa. Tornando ultimamente sul suo profilo che stavo analizzando le settimane scorse ho notato che ha fissato un post nel quale si parla di una canzone su Spotify. Come fa TikTok e facciamo la buona. L'obiettivo potrebbe anche essere quello di raggiungere più persone possibili sicuramente ma se si fa uscire una canzone su Spotify oltretutto ispirata alle live direi che l'obiettivo di guadagnare e anche di più rispetto a far la cameriera c'è tutto. Poi per carità se riesce nel suo intento buon per lei sono molto contento che riesca a far business in questo modo. Ma cosa occorre per fare queste live e soprattutto perché si raggiungono così tanti spettatori? Partiamo dalla base ovvero per fare queste live servono mille follower su TikTok nulla di impossibile da raggiungere. Guardate ad esempio i primi video di Giuliana non sono così impegnativi, elaborati, particolari dei video su argomenti molto sensibili che attirano le masse. Direi proprio di no. Ok quindi la base ce l'abbiamo, avere un account con mille follower oppure crearne uno da zero e raggiungere mille follower. Ma c'è veramente così tanta gente che segue questi creatori di contenuti e soprattutto dona così tanto? Assolutamente sì e adesso vi spiego perché. Queste live diciamo che innanzitutto danno il controllo a chi sta seguendo la live e quindi dona o fa determinate azioni per controllare il personaggio non giocante. Quindi diciamo che sotto sotto c'è un certo senso di onnipotenza. Il secondo aspetto da non tralasciare assolutamente è la menzione in live di chi decide di seguire questo NPC proprio mentre sta facendo il suo contenuto in live. Infatti in genere verrà menzionato e quindi c'è un senso di appartenenza alla community. Terzo ed ultimo punto ovviamente la moda, il trend. Ci sono persone che seguendo queste mode o questi trend sono disposte a spendere centinaia se non migliaia di euro dietro a queste cose che prima o poi certamente finiranno. Ma qual è il segreto, il trucco di queste persone che effettivamente riescono a guadagnare facendo live NPC? L'unico trucco e segreto che utilizzano è la particolarità della persona stessa. Analizzando il fenomeno di Giuliana infatti si può capire che è una bella ragazza anche se la bellezza è completamente soggettiva. La particolarità sua sono il tono, le parole che utilizza, le movenze e soprattutto l'accento. Se io mi mettessi a fare queste live dicendo Vedete? Lo sto dicendo in un modo totalmente impersonale e non funzionerebbe assolutamente. Prendiamo ad esempio Hypnoza, la ragazza con cui ho scoperto queste live che fa una cosa diversa da Giuliana ma altrettanto particolare perché lei ad esempio è vestita in cosplay cambia cosplay in base a situazioni, in base alle follower che magari fanno determinate challenge per arrivare proprio a farle cambiare il cosplay e soprattutto utilizza movenze e parole completamente diverse ma molto molto particolari. Benvenuti! Cheese! Ta ta ta! Luigi no! Tic toc! Tic toc! Chi è? Chi è? Tic toc! Tic toc! Chi è? Se quindi volete provarci anche voi secondo me questo è il momento giusto per farlo perché entrerete in un trend e verrete sicuramente molto seguiti se lo farete nella maniera più corretta che ci possa essere poi questa è una cosa totalmente personale quindi dovrete scegliere voi il vostro stile non copiarlo da altri soprattutto questo è il momento giusto per farsi di fare un profilo e farlo crescere come ho detto prima è una moda che passerà sicuramente ma intanto potrete guadagnare da tic toc e dopodiché quando sarà passata la moda avere comunque un profilo forte per attirare altri tipi di business le cose però non finiscono qua come sempre faccio analizzo un business dalla a alla z e vediamo i lati negativi perché sì ce ne sono bello fare i soldi vero certamente però qua dovrete dedicare il tempo infatti questo è il primo lato negativo non sono dei soldi fatti per dei video che avete realizzato e poi messi lì una volta al giorno una volta ogni due giorni qua dovrete essere presenti sulla piattaforma i live perché no live uguale no guadagno il secondo punto da non dimenticarsi sono gli hater che su tutte le piattaforme ce ne sono in quantità però su tic toc c'è veramente il peggio del peggio che ci possa mai essere quindi preparatevi ad avere una sorta di scudo di gomma per evitare di cadere nel tranello di tutti quelli che vi insulteranno o vi diranno delle cose brutte fondamentalmente che serviranno solo a farvi arrabbiare voi siete lì per tutte le altre persone non per loro il terzo lato negativo che sicuramente per alcuni potrebbe anche essere un grosso problema è proprio metterci la faccia perché potreste essere riconosciuti in giro con una grande community e magari ci sarà uno che vi dirà a guarda sei quello o quella dei video demenziali su tic toc o magari potreste avere nel caso faceste già un altro tipo di lavoro anche dei problemi proprio sul luogo di lavoro a causa di queste live quarto ed ultimo punto negativo logicamente l'account da mille follower perché non è una cosa che potete fare dall'oggi al domani o avete già un account con mille follower ed utilizzate quello oppure dovrete fare un account fare dei video che porteranno la gente ad iscrivervi sul vostro canale dopodiché potrete iniziare a fare live cosa ne penso io di tutto ciò sicuramente al momento è un ottimo trend ed è un'ottima moda per poter sicuramente riuscire a guadagnare anche non poco in base al tempo che impiegherete ovviamente e alla bravura che ci metterete nel fare queste live ma come tutto è una moda quindi passa dovete poi essere in grado di puntare su altro quindi va bene far crescere un profilo ma poi bisognerà anche puntare su qualcos'altro non si può pensare di far questo tutta la vita e voi invece cosa ne pensate grazie a tutti